Ci saranno volontari in pettorina arancione che raccoglieranno la spesa nei supermercati e negozi alimentari. Saranno distribuiti anche in Molise nei punti vendita dopo domani sabato 16 novembre. Torna in tutta Italia la giornata della colletta alimentare, iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. In Molise se ne occupa la sezione che racchiude anche l'Abruzzo. Si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà aiutate nella nostra regione da 42 traenti e associazioni caritatevoli. Lo slogan di quest'anno è condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Il nostro slogan è stato sempre condividere il bisogno per condividere il senso della vita. Quello che facciamo in Molise ogni anno per 12 mesi all'anno è provare ad aiutare le strutture caritative con prodotti alimentari. Una parte di questi provengono dalla giornata nazionale della colletta alimentare. Aiutiamo 42 strutture in Molise per circa 7.000 persone assistite. La nostra origine, il nostro scopo è recuperare cibo per aiutare persone in stato di difficoltà. Si sta allargando la forchetta sociale tra il benessere, quello vero, e invece chi comincia non riuscita ad arrivare a fine mese, anche tra le persone della piccola borghesia che fino a poco tempo fa non avevano problemi ad arrivarci. A spiegare come sarà organizzata anche in Molise la colletta alimentare sono stati i rappresentanti locali del Banco Alimentare in conferenza stampa a Campobasso. Noi avremo nel tutto il territorio del Molise 76 punti vendita presso i quali faremo la raccolta. L'anno scorso il ricavato della raccolta è stato di 34.500 kg circa e se consideriamo che l'International Food Programme dice che servono 500 grammi di prodotti alimentari per fare un pasto, immaginiamo quanti pasti siano, 34 tonnellate e mezzo, sono tanti, e vengono tutti destinati alle persone indigenti del territorio. Sottolineo che alla colletta ogni anno partecipa un numero sempre crescente di ragazzi delle scuole superiori e questo ci conforta perché riteniamo che il gesto abbia un alto valore educativo e magari staccare i ragazzi dallo smartphone per due ore è una cosa che può giovare anche alla loro crescita. La colletta alimentare è sostenuta anche da associazioni e istituzioni. L'appello è quello di fare sabato un gesto sentito, tendere la mano a chi non riesce a portare in tavola cibo per la famiglia e un semplice gesto che ci faccia ricordare ancora di essere umani. I prodotti prioritari di cui chiediamo la donazione sono olio, tonno e carne in scatola, verdure e legumi in scatola, alimenti per l'infanzia perché sono quelli che provengono di meno dal circuito ordinario della raccolta del banco alimentare ma naturalmente è ben accetto qualsiasi tipo di donazione.